Entro ottobre, no non c'è nel decreto perché stiamo lavorando con l'autorità anticorruzione per fare in tutti i nuovi bandi, per tutte le nuove cooperative, gli alberghi, i centri per i migrati anche qua, arrivando a una media europea, tagliare una parte di questi 35 euro garantendo tutti i servizi essenziali con una cifra di molto inferiore che penso possa arrivare intorno ai 20-22 euro al massimo anche qua sarà circa un miliardo di risparmio a vantaggio dei cittadini italiani che io voglio reinvestire in sicurezza assumendo nuove forze dell'ordine quindi le do il crono programma, oggi decreto sicurezza, entro ottobre il taglio dei 35 euro